La quinta edizione di Articolario a Villa Erba sul lago di Cuomo è un evento dedicato al giardino, al verde e a tutte le suggestioni ad esse collegate. Coinvolge i visitatori in un'esperienza sensoriale assoluta, aperte a influenze di moda, gusto, arte e design. Quest'edizione è dedicata al gusto e ai peccati di gola in giardino, con proposte golose a base di prodotti derivanti dalla natura. Vivere pienamente Articolario significa prendersi il tempo per scoprire uno per uno i vivaisti accuratamente selezionati dal comitato scientifico e lasciarsi sorprendere dalle loro proposte originali, ricercate e a volte anche bizzarre. Sono infatti più di 50 i nuovi espositori presenti Articolario quest'anno, provenienti da tutta Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.